Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore scrive al ministro alla cultura Gennaro San Giuliano e gli propone di estendere la Garisenda e la torre degli asilelli patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo bisogno che tutto il paese si impegni insieme a noi per salvaguardare questo monumento di Chiara Lepore. Niente sconti però dall'opposizione. Lega e Forza Italia propongono una commissione sotto le torri. Fratelli d'Italia e Bologna Ci Piace convocano un consiglio comunale straordinario. È durato mezz'ora il blocco del traffico causato sui viali di Bologna, altezza di porta a mascarella dalla protesta degli ambientalisti di ultima generazione che si sono seduti in mezzo alla strada esibendo uno striscione. Tanti gli automobilisti che si sono arrabbiati. Qualcuno è sceso dalla macchina per spostare di peso i manifestanti prima che arrivasse la polizia a sgomberarli. Una quindicina gli attivisti che sono poi stati denunciati. Questa mattina nella piazza coperta della Sala Borsa i rappresentanti delle aziende La Perla, Marelli, Ex Saeco e Ex Breda Menarini si sono confrontati con le istituzioni locali e hanno fatto il punto sulle vertenze in atto. Si tratta delle più importanti crisi aziendali presenti sul territorio bolognese. Valorizzare il ruolo dei medici di formazione specialistica che si renderanno disponibili a lavorare nei CAO i centri di assistenza urgenza previsti dalla riforma avviata dall'Emilia Romagna è il principale obiettivo del protocollo di collaborazione firmato oggi dalla Regione e dai rappresentanti di ALS Associazione Liberi Specializzandi. In vista delle commemorazioni di ogni Santi e del 2 novembre anche la nostra città si prepara a celebrare le ricorrenze con un'installazione floreale alla Certosa ma anche con servizi di trasporto ad hoc per agevolare i cittadini a visitare i propri cari. Per gli over 65 sarà possibile muoversi in auto blu per recarsi al cimitero di Borgo Panigale o della Certosa ad una tariffa speciale di 5 euro fino al 5 novembre. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale in apertura torniamo a parlare della Torre Garisenda il sindaco Matteo Lepore invia una lettera al Ministero della Cultura San Giuliano nella quale chiede che anche le due torri siano inserite nel patrimonio UNESCO. Facciamo il punto in questo servizio di Maria Elena Mele Lettere telefonate c'è un filo diretto tra Bologna e Roma tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro alla Cultura Gennaro San Giuliano all'annuncio del primo cittadino di inserire anche la Garisenda la Torre degli Asinelli patrimonio UNESCO e il ministro evidenzia perché il comune non si è posto prima il problema ma al tempo stesso San Giuliano si è detto come Ministero disponibile a lavorare insieme per la salvaguardia della Garisenda. Dal canto suo il sindaco Matteo Lepore prosegue sulla linea non voglio fare polemiche. L'utilità di questa proposta è soprattutto politica e di attenzione noi abbiamo bisogno davvero che tutto il paese si impegni insieme a noi per salvaguardare questo monumento occorrono risorse ma occorrono anche buone idee credo che noi siamo in grado insieme al ministero di presentare una progettualità importante per dimostrare che è un patrimonio universale dell'umanità il centro storico di Bologna con i suoi portici e le sue torri insomma è possibile discutere con la commissione in questo senso significa non chiedere un nuovo riconoscimento ma significa allargare il sito dei portici quindi credo che se si vuole dal punto di vista politico sostenere questa proposta sia fondamentale iniziare a lavorare assieme. I passi per far sì che anche le due torri vengano inseriti assieme ai portici patrimonio UNESCO non sono immediati. Noi avanziamo la proposta poi vedremo non è che aspetteremo ovviamente l'UNESCO per salvare la Garisenda però credo che sia importante che si lavori tutti e si mobilitino tutte le attenzioni e le risorse non sappiamo ancora quanto costerà la salvaguardia ci arriverà il protesto a breve però ci dobbiamo tutti attivare per trovare risorse quindi noi come comune abbiamo detto che faremo fronte alle spese che saranno necessarie richiederemo sicuramente anche il sostegno attraverso l'Arbonus e anche questo è un aspetto che il Ministero può mettere a disposizione e poi tante aziende private che potranno contribuire come abbiamo fatto per il Nettuno. Nel dibattito sulla Garisenda l'opposizione non fa certamente sconti ma procede divisa Lega e Forza Italia propongono una commissione sotto le torri Fratelli d'Italia e Bologna Ci Piace convocano invece un consiglio comunale straordinario Come gruppo abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare sul tema della Torre Garisenda ma ad oggi non siamo stati coinvolti e per questo motivo insieme al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia proprio oggi abbiamo presentato con urgenza una richiesta di convocazione di un consiglio straordinario che vada proprio a far rantare quelli che sono i temi della Garisenda con tutte le ripercussioni del caso pensiamo alla mobilità cittadina ma anche alla vivibilità della zona, dei residenti ma anche delle attività commerciali che saranno e che subiranno notevole conseguenze negative Assieme ai colleghi del gruppo Bologna Ci Piace quest'oggi noi di Fratelli d'Italia abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario che si occupi esclusivamente dello stato di salute della Torre Garisenda abbiamo chiesto la presenza secondo noi fondamentale del sindaco, di tutti gli assessori e dei tecnici del comune di Bologna perché se fino ad oggi c'è stato un intervento tardivo da parte del sindaco e della giunta ci vuole davvero collaborazione e ci vuole tutta la verità il sindaco porti tutte le carte che sono arrivate dalla sovrintendenza porti tutte le carte del comitato tecnico scientifico dica tutta la verità ai cittadini bolognesi solo così si può collaborare per il bene e per la salute di tutti e restiamo ancora in tema Garisenda perché oggi Simona Larghetti di coalizione civica è intervenuta in consiglio comunale partendo dal gioco chi buttiamo giù dalla torre tre i candidati per il salto, il trasporto pubblico su gomma, lo spazio pubblico e il traffico privato di attraversamento nel suo ragionamento la Larghetti ha dichiarato giocando a obbligo e verità con il comitato scientifico che monitora la Garisenda ha spiegato la Larghetti si saprebbe che il principale responsabile dell'instabilità della torre non è il 14 o il 27 ma il cambiamento climatico e che il centro è pesantemente invaso da auto private di non residenti che tagliano dal centro e dai furgoni delle consegne a tutte le ore congestionando così gli assi del trasporto pubblico ha spiegato ancora la Larghetti Allerta rossa oggi per piene e frane nella zona occidentale dell'Emilia Romagna nelle aree appenniniche delle province di Bologna, Modena e Reggio le intense precipitazioni osservate e previste nella giornata di oggi scrive l'ARPAE determineranno livelli idrometrici prossimi o superiori alle soglie 3 su Aveto, Nure, Parma, Baganza e prossimi o superiori alle soglie 2 negli altri corsi d'acqua del settore occidentale della regione con fenomeni franosi nelle prime ore di domani sono ancora previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità in progressivo spostamento dai rilievi e con esaurimento dei fenomeni già nella mattinata le precipitazioni, spiega l'ARPAE allenteranno l'esaurimento delle piene in corso mentre nella prima metà della giornata saranno poi possibili fenomeni franosi ruscellamenti lungo i versanti ed erosione delle sponde lungo l'asse di questo telegiornale parliamo anche di una protesta traffico in tilt questa mattina su Viale di Bologna all'altezza di Porta Mascarella dove è andata in scena una nuova iniziativa di protesta degli ambientalisti di ultima generazione che si sono seduti in mezzo alla strada bloccando così il passaggio delle auto tanti gli automobilisti che si sono arrabbiati prima che arrivasse la polizia a sgomberare gli attivisti tutti denunciati per blocco stradale e ovviamente manifestazione non autorizzata Federico Balletti ci relaziona le catastrofi climatiche colpiranno ancora più potenti come hanno colpito in Emilia Romagna come hanno colpito in tante altre regioni la protesta è cominciata alle 8 e un quarto senza dubbio un'ora di punta per il traffico e quando gli attivisti si sono seduti in mezzo alla strada bloccando Viale Berti Pisciate via Stalingrado a pochi passi da Porta Mascarella a Bologna gli automobilisti si sono inevitabilmente arrabbiati tanti hanno suonato il clacson qualcuno è sceso dalla macchina per provare a spostare di peso i manifestanti prima che arrivasse la polizia a sgomberarli è durata circa mezz'ora questa mattina l'ennesima iniziativa dei ragazzi di ultima generazione il gruppo ambientalista che da tempo si rende protagonista di azioni come questa la campagna al centro della protesta si chiama fondo riparazione e chiede ai governi uno stanziamento preventivo permanente partecipato di 20 miliardi di euro che vada a riparare i danni sempre maggiori causati da disastri naturali come le alluvioni provocate dal cambiamento climatico durante la manifestazione alcuni attivisti si sono legati a due a due con delle catene oltre ai tanti cittadini che dovevano andare al lavoro all'università a scuola ed erano come minimo infastiditi dal blocco secondo ultima generazione c'è stato anche un giovane e strano nella loro campagna che avrebbe deciso di aggiungersi alla protesta di sua spontanea volontà il blocco è stato momentaneamente interrotto per fare passare un'auto con le sirene accese che effettuava un trasporto organi per poi terminare verso le 8.45 quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto e hanno sgomberato la carreggiata consentendo la normale ripresa della circolazione una quindicina ai partecipanti alla manifestazione che dopo aver fatto resistenza passiva sono stati portati in questura per essere identificati per tutti è scattata una denuncia per blocco stradale e manifestazione non autorizzata voi non dovreste portare via me ma dovreste dire che il governo dipende per i cittadini e come già ampiamente annunciato anche nei giorni scorsi domani sera ci sarà il numero chiuso in piazza Aldrovandi a Bologna una decisione presa dal comune per cercare di limitare gli effetti di una movida troppo molesta proprio in concomitanza della notte di Halloween oggi lo stesso comune ha fatto sapere quante saranno le persone che effettivamente potranno avere accesso alla piazza sentiamo saranno al massimo 650 le persone che la sera di Halloween potranno stare contemporaneamente in piazza Aldrovandi è questo il numero limite stabilito dal comune di Bologna che ha pubblicato l'ordinanza che disciplina gli accessi a una delle zone più frequentate della movida nella notte fra martedì e mercoledì una decisione annunciata già nei giorni scorsi con l'obiettivo di rendere più vivibile la piazza sia per i frequentatori che per residenti e commercianti fra le 20 del 31 ottobre e le 4 del 1 novembre piazza Aldrovandi sarà dunque a numero chiuso o meglio ad accesso contingentato fino a un massimo di 650 persone con ingresso solo attraverso varchi di entrata e uscita presenti su via San Vitale e su strada maggiore e presidiati da polizia locale e street tutor fra le altre misure sarà in vigore il divieto di ingresso con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e con qualsiasi strumento musicale o apparecchio di riproduzione musicale vietato anche l'abbandono di rifiuti vietato l'accesso nell'area soprelevata davanti al civico 12 della piazza uno dei punti dove si creano di solito i maggiori assembramenti dalle 20 di martedì fino alla chiusura è inoltre vietata ai titolari e gestori di tutte le attività presenti nella piazza la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in lattine e contenitori di vetro divieto totale di qualunque somministrazione poi a partire da mezzanotte e infine chiusura a luna l'invito del comune di Bologna ai frequentatori abituali di piazza al Drovandi è di scoprire anche altri luoghi della città per questo sempre la notte di Halloween l'intera rete del trasporto pubblico sarà gratuita da mezzanotte fino alle 6 e oltre agli autobus ci sarà attiva anche una navetta gratuita City Red Bus con partenza da Porta San Vitale che farà la spola verso tre zone ad alta densità di locali via Casarini via Stalingrado e la zona San Donato sono stati arrestati dalla polizia gli autori di una violenta rapina avvenuta nella notte fra sabato e domenica nei pressi di via Matteotti in zona Bolognina si tratta di due cittadini nordafricani uno di 21 anni e l'altro 17enne sono accusati di aver afferrato per il collo un uomo per poi sfilargli dalle tasche il portafogli con dentro 20 euro i documenti la vittima ha subito avvisato il 113 e gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco già in zona grazie all'intensificazione dei servizi di controllo del territorio hanno poi rapidamente rintracciato i due rapinatori in via Matteotti ancora in possesso del portafogli il maggiorenne è finito in carcere il 17enne è stato portato in un centro di prima accoglienza ancora cronaca un importante club di basket che milita nella serie B interregionale è finito nei guai in un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna che ha scoperto una frode da un milione e mezzo di euro realizzata attraverso false sponsorizzazioni sono coinvolti dirigenti giocatori e anche componenti degli organi di amministrazione vediamo sono 23 fra dirigenti giocatori e altre figure le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Bologna che ha smascherato una frode fiscale realizzata da una importante società di basket militante nella serie B interregionale ed altre 20 società per lo più bolognesi attraverso un sistema di false sponsorizzazioni realizzato con la compiacenza di alcuni giocatori e dirigenti sportivi la montare dei ricavi non dichiarati supera il milione di euro l'indagine coordinata dalla procura è stata condotta dagli investigatori della compagnia di Imola delle Fiamme Gialle l'espediente Truffaldino coordinato dalla società di basket spiegano i finanzieri consisteva nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante la ricezione di denaro fino a 4 volte il reale valore delle sponsorizzazioni effettuate in seguito tramite rimborsi e stipendi gonfiati di dirigenti e giocatori queste somme venivano prelevate in contanti e in parte restituite alle società sponsor questo meccanismo avrebbe permesso agli stessi sponsor di beneficiare di costi per abbattere il proprio imponibile ai fini delle imposte dirette con la conseguente evasione fiscale gli accertamenti hanno permesso di ricondurre a tassazione maggiore ricavi per circa 750 mila euro ulteriori 450 mila euro di imponibile sono stati contestati alle società sponsor che hanno beneficiato della frode le 23 persone indagate sono dirigenti iscritti delle varie società sportive e componenti degli organi di amministrazione secondo i finanzieri questa frode oltre ad avere causato una rilevante evasione fiscale e contributiva ha comportato un'alterazione delle condizioni di concorrenza anche in danno delle altre società di basket militanti nella stessa categoria in conseguenza degli illeciti rilevati è stata avviata nei confronti della società di basket coinvolta una proposta di disconoscimento della natura di ente non commerciale col venir meno del conseguente regime di tassazione agevolato previsto per il terzo settore siamo alla pagina sindacale questa mattina a Bologna i dipendenti delle quattro vertenze presenti nel territorio metropolitano si sono dati appuntamento in sala borsa andiamo a vedere com'è andata le vertenze sindacali la perla Marelli ex a eco ex a breda menarini entrano nel cuore di Bologna oggi più che mai ad evidenziarli non solo i quattro standardi appesi nella piazza interna di sala borsa ma anche il dialogo che la città metropolitana sta portando avanti insieme alla regione miglia romagna e i lavoratori che da tempo lottano per la tenuta occupazionale come istituzioni lanceremo entro l'anno l'iniziativa degli stati generali dichiara il sindaco metropolitano Matteo Lepore che ha proseguito è il nostro territorio anche forte e attrattivo che sta vivendo un momento di grande cambiamento vediamo arrivare nuovi investitori aprire nuove aziende e allo stesso tempo questa grande trasformazione della produzione nel manifatturiero come quella della moda o dell'automotive al tavolo sono stati invitati a parlare i rappresentanti delle quattro aziende e ad iniziare dalla perla che sta vivendo una situazione critica e in questa avvertenza al contrario delle precedenti che abbiamo subito in questi ultimi anni il fattore principe è il tempo non c'è più tempo non si possono aspettare certo le tempistiche di una proprietà che non intende evidentemente fare qualcosa di buono intanto al tavolo ministeriale della perla ai primi di novembre la società ha già annunciato che non si presenta ho il timore che ha deciso di non presentarsi più ecco e quindi attenzione adesso vediamo cosa succede c'è l'incontro fissato quel soggetto due cose gli ho già detto gli è già stato detto va bene che si presenti con un progetto industriale di rilancia ma di progetto industriale di rilancio c'è pieno il mondo e anche il soggetto che ci mette la finanza per la Marelli di Crevo al Cuore i segnali sono positivi con l'arrivo di cinque manifestazioni di interesse ma i dipendenti restano prudenti al momento non siamo a conoscenza noi dei cinque compratori la regione ha fatto quello che doveva fare e quindi andare a vedere che questi cinque nomi siano veri e sembra che siano veri quindi si va nella direzione che avevamo ipotizzato noi e torniamo a parlare della riforma dei pronto soccorso perché Regione e ALS l'associazione Liberi Specializzanti hanno siglato un accordo per il contributo degli specializzanti nei CAU i centri di assistenza a urgenza l'obiettivo è assicurare le stesse condizioni di accesso formazione e retribuzione degli altri colleghi medici ci spiega tutto Alessia Salvatori valorizzare il ruolo dei medici di formazione specialistica che si renderanno disponibili a lavorare nei CAU i centri di assistenza medica per le urgenze previsti dalla riforma avviata dalla Regione Emilia-Romagna è questo il principale obiettivo del protocollo di collaborazione presentato oggi e firmato dalla Regione e dai rappresentanti di ALS Associazione Liberi Specializzanti dell'Emilia-Romagna la più rappresentativa della categoria priorità dell'intesa dare agli specializzanti le stesse condizioni di accesso formazione retribuzione degli altri colleghi medici che lavoreranno nei CAU questo darà un ulteriore elemento di forza al progetto perché sono giovani in formazione specialistica che possono in quanto tale svolgere diciamo sostituzioni di guardia medica di continuità assistenziale questo dimostra che questa idea dei centri di assistenza per le urgenze nel territorio nelle case della comunità in adiacenza ai grandi ospedali e anche in alcuni ospedali che altrimenti sarebbero stati chiusi nei loro reparti di pronto soccorso è un'idea vincente che interessa soprattutto i medici del futuro quelli che oggi sono in formazione specialistica e che sono appunto nelle varie discipline dalla cardiologia all'anestesia all'emergenza urgenza tante altre discipline che possono svolgere così come possono svolgere la guardia medica sono interessati ad entrare nei centri di assistenza per le urgenze penso che in primo luogo questa sia un'occasione importantissima perché permette un inquadramento degli specializzandi all'interno del servizio regionale del servizio sanitario nazionale noi viviamo come specializzandi in un limbo in cui siamo considerati a volte studenti a volte professionisti in questo caso noi ci mostriamo come professionisti questo significa una certa autonomia da un punto di vista decisionale da un punto di vista lavorativo che sarà sostenuta dalla formazione che la regione ci farà e quindi ci permetterà di avere una posizione adeguata nei confronti dei pazienti e l'altra cosa è importante anche tenere conto è la valorizzazione dovuta al fatto che noi saremo considerati come gli altri medici quindi pari dignità pari retribuzione e in vista dell'imminente commemorazione di ogni santi e del 2 novembre giornata dedicata ai defunti anche la nostra città si prepara con un'installazione floreale alla certosa ma anche con dei servizi di trasporto ad hoc per le persone più anziane ad una tariffa agevolata fino al prossimo 5 di novembre sentiamo l'importanza di trovare una via definitiva e sicura per scrivere finalmente la parola pace è lo spirito che guida l'iniziativa di una gigantesca composizione floreale fatta di ciclamini rossi che compone proprio la scritta pace l'installazione che campeggerà sull'aiuola di fronte alla chiesa di San Girolamo vicino all'ingresso principale della certosa nasce da un'idea di Bologna servizi cimiteriali in vista della giornata di ogni santi e della ricorrenza dedicata ai defunti il 2 novembre un'occasione in più per ricordare i propri cari ma anche per riflettere insieme sulla fragilità della vita e su quanti in questo clima di guerra e di tensione internazionale sono in pericolo se non si riuscirà a trovare al più presto una via per la pace questo momento di grande tensione a livello mondiale ci sono conflitti in atto per cui queste giornate questa settimana il primo e il 2 di novembre che sono momenti di celebrazione dei nostri defunti sono anche un momento di riflessione quindi abbiamo pensato che non solo dobbiamo ricordare i nostri defunti ma dobbiamo pensare a tutte le persone a tutti coloro che in questo momento stanno lottando per la vita e quindi abbiamo voluto semplicemente dare un piccolo messaggio di pace con la realizzazione di questa composizione all'entrata della Certosa in vista delle ricorrenze di ogni Santi e del 2 novembre inoltre grazie a convenzioni e accordi stabiliti ad hoc sono previste agevolazioni nel trasporto per i cimiteri cittadini della Certosa e di Borgo Panigale l'accordo col Tiper per la linea 76 che è una linea aggiunta appunto che parte da Piazza San Francesco per arrivare ai cimiteri ha la possibilità per gli over 65 di utilizzare le auto blu della SACA con un prezzo che ha il mirato di 5 euro per andare e tornare dai cimiteri della Certosa e di Borgo oltre naturalmente all'accoglienza con i mezzi elettrici per le persone che hanno problemi di mobilità inoltre anche i nostri servizi sono naturalmente rinforzati per cui chiuderemo in queste giornate alle 5 e un quarto gli uffici sia dei servizi per l'utenza che i servizi accoglienza Il gruppo intesa San Paolo ha deciso di destinare un miliardo e mezzo per il sociale in particolare contro le diseguaglianze con una sede ad hoc a Brescia il CEO Carlo Messina annuncia anche degli aumenti ai dipendenti e il ricalcolo del TFR Intesa San Paolo in campo con un miliardo e mezzo di euro per iniziative e progetti finalizzati alla riduzione delle diseguaglianze entro il 2027 l'annuncio è arrivato da Carlo Messina consigliere delegato e CEO di Intesa San Paolo a Brescia nel corso dell'incontro nessuno escluso crescere insieme in un paese più equo l'impegno di Intesa San Paolo nella città lombarda infatti la banca proprio per questo obiettivo si è dotata di una nuova sede con unità organizzativa dedicata è una banca in particolare come siamo noi che rappresenta 500 miliardi di impieghi che è un terzo del PIL un trilione e 200 miliardi di ricchezza delle famiglie italiane che ha quote di mercato che sono intorno al 30% a 13 milioni di clienti non può disinteressarsi di quello che accade in un paese abbiamo tutti una visione che ci porta ad avere una responsabilità sociale ma non da slogan in quello che sentiamo come emozione e quindi riteniamo che generando molti profitti una parte di questi profitti possa essere destinata a fare del bene alla comunità e questo è quello che facciamo quello che ci impegniamo a fare con un miliardo e mezzo nei prossimi cinque anni è il più grande progetto al mondo di supporto alle disuguaglianze credo che sia dovrebbe essere un vanto anche questo di questo paese avere un'istituzione che si occupa di questo e se ne è sempre occupato perché negli ultimi cinque anni abbiamo già dato come donazione un miliardo di euro ed ora ci fermiamo rientreremo in studio tra pochissimo restate con noi tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni Magica Parrucchieri è molto più di un hair stylist uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine per la cura e la bellezza dei tuoi capelli in una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di estetica Lara rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram Magica Parrucchieri ed estetica Lara via Procaccini 10 telefono 051 36 16 12 051 36 16 06 A Bologna c'è un luogo unico per dare spazio allo stare insieme al benessere al tuo stile al tuo svago e alla solidarietà al gusto diamo spazio al tuo tempo al centro commerciale Via Larga e Spazio Conad a Bologna in Via Larga 10 Eddie certo che sei proprio attento ai consumi e se ti dicessi che Edison compie 140 anni e ci sono un sacco di vantaggi per te festeggia con noi e ottieni bonus crescenti in bolletta fino a 140 euro fai su edisonenergia.it o chiamalo 800 14 14 14 14 se lo sai scegli meglio Roveri Design apre il suo nuovo showroom di 500 metri quadri in esposizione un'ampia scelta di materiali pavimenti rivestimenti cucine sanitarie e rubinetteria delle migliori marche aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 19 tranne il lunedì mattina e il sabato pomeriggio chiuso la domenica sapremo trovare insieme a te le soluzioni giuste per la tua nuova casa per la tua casa da sogno Roveri Design RoveriCostruzioni.com via Bartolomeo Provaglia 5 Bologna Bologna Il patrimonio immobiliare di una famiglia rappresenta i sacrifici di una vita e quando si desidera cambiare la propria casa il timore di sbagliare di svendere di fare il passo più lungo dalla gamba rende insonni le notti dei proprietari per essere sicuri di fare le scelte giuste non ti affidare nelle mani del primo che incontri fai un confronto un confronto è una cosa utile e intelligente non credi? Mondoree è stata selezionata da importanti partner a livello nazionale e ciò garantisce serietà competenza e trasparenza ai massimi livelli affidati a Mondoree l'agenzia più bella che c'è Ancora insieme per parlare di spettacoli vi segnaliamo che dal 3 al 5 novembre alle 21 domenica alle 16 spettacolo pomeridiano approda al Teatro d'Use di Bologna la coscienza di Zeno nell'adattamento di Monica Codene e Paolo Valerio che firma anche la regia nel ruolo del protagonista della storia Zeno Cosini ci sarà Alessandro Haber attore di grande carisma e dall'istinto scenico assolutamente personale che saprà coniugare perfettamente ironia e profondità ed ora allo sport domani alle 21 i sedicesimi di Coppa Italia tra Bologna ed Elas Verona in un dall'ara con più di 6.000 spettatori diverse rotazioni per Motta che si è definito soddisfatto complessivamente dell'impegno del gruppo inoltre alle 23.30 su Etv dopo il pallone nel 7 la differita integrale di Sassuolo Bologna intanto vediamo la presentazione della partita può questo il segreto per focalizzarsi meglio sul presente un gruppo che si diverte spensierato è quello che aiuta a cancellare il passato lavorare sul presente e non pensare troppo al futuro sempre con responsabilità ho sempre detto che che l'impegno più il sorriso è la maniera più facile di lavorare senza impegno è impossibile ma anche il sorriso è importante è nel nostro lavoro e mettere le due cose insieme fa che la squadra dimostri ogni partita che è presente che fa la partita che deve fare contro qualsiasi squadra poi al di là di questo arrivano i risultati per giudicare a che livello è la squadra ma io come allenatore ripeto sono molto soddisfatto da quello che vedo tutti i giorni del gruppo delle squadre dentro e fuori dal campo e quello che vedi in questi giorni che indicazioni ti dà per domani è una squadra che ha giocato sabato per forza di cose si cambierà immagino per domani giocheranno quelli che meritano di giocare quelli che dimostrano in allenamento che possono giocare la partita è sempre è sempre il premio del lavoro fatto durante gli allenamenti e quelli che giocheranno sono quelli che stanno pronti per poter affrontare una partita ma a livello fisico c'è ancora qualche scoria da smaltire da sabato o sono tutti al 100% sono giovane sono dei ragazzi che sono in salute stanno bene tutti tranne quelli che hanno qualche problemino fisico che in questo momento non possono partecipare e con il calcio si chiude questa seconda edizione del nostro telegiornale grazie a tutti per averci seguito io vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata con i programmi di ETV ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda